ehm è l'acqua si lo vedo ah beh lì non togliere sennò scende tutta l'acqua vieni andiamo di qua qua continua la caverna aiuto aiuto mi sono bloccato ah ok c'è qualcosa che muore la senti pure tu? si ma no ovviamente perché sei uscita? ma che ne so che diavolo sta succedendo che è successo? che ne so sto rientrando ti ha sbattuto fuori che ti ha detto? ma non mi ha detto niente sono uscita e basta ah senti entra nel gruppo verde così mi ritrovi quando entri ok è sempre da solo mi lasci guarda ma con una scusa con l'altra l'altra volta che cos'era? ma non è vero che avevo la connessione ah no non mi ricordo comunque è successo già se hai 840 mili oh mio dio non mi troverai mai come faccio a tornare a casa io? una stella! si vabbè non è così importante eh eh ma a me piace si ma devi venire da me sto arrivando eh già che non dovevi crashare perchè non si fa in mezzo al video è sempre velocissime eh allora amore si un'altra stella vieni da me un'altra oddio ma tu lo sai almeno cosa ci fai con le stelle no e allora perchè cazzo le prendi? perchè sono belle no? oh si è già quasi arrivata eh com'è che non sei morta? stai citando ma che citando? perchè dovrei morire scusa? come nel video perchè è notte ancora no? è perchè io corro quindi ho preso un bastone luminoso ah brava vieni oh ecco sai che sembri mary poppins con quel cavolo di ombrello no ah senti hai butta il bastone luminoso qua sotto oh oh c'è uno zombie dietro zombie dietro ok ho buttato il bastone minoso aspetta io mi occupo dell'ozione no insomma ah sembra tranquillo qua sotto usa l'ombrello uuuuh vabbè ho avuto problemi hai altri bastoni luminosi? no vieni aiutami ho raccolto quello che ti era fatto qua c'è altro minerale dobbiamo cercare di prenderlo aspetta ah ok hanno cambiato un po' la dinamica dell'acqua su Terraria ora si comporta in modo più umano gronda prima com'era? prima io mi ricordo che non non lo so però sicuramente era diversa era stupida e qua c'è uno slime illumina illumina sta illuminando illumina più avanti illumina lo slime no in giro vieni aspetta a sotto di noi con la mia visuale aspetta qua c'è qualcosa illumina no c'è niente quello è il lead vabbè se ne frega ci andiamo qua dritti che mi è sembrato di vedere qualcosa illumina 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 ci sono ecco accettando team ma ormai noi dovremmo andare oltre il team non ci basta più il team senti prendilo tu va io continuo sotto smetti di scavarmi la terra sotto almeno fammi fatti una piattaforma no ma da quante che ci giochi a terraria scusa eh da pochi non è vero da quante che ci giochi a terraria? da tre anni che non esiste gioco no esiste da tre anni sai che terraria ha una storia particolare dopo l'uscita gli sviluppatori avevano detto non è neanche troppo tempo dopo l'uscita avevano detto che non sarebbe stato più sviluppato non si sa perché perché il gioco stava andando anche bene però loro hanno deciso di smettere di rilasciare aggiornamenti poi non so o hanno cambiato idea oppure i giocatori si sono incavolati talmente tanto che hanno deciso di ricominciare però insomma se hai mica oh io ma io ho la pozione della civetta me la bella così almeno la smetti di dire illumina è illumina uguale perché non vedo un cazzo lo stesso cioè è uguale a prima con la civetta cegata senti vieni qua e illumina ma io ho solo una torcia ma scusa ma gli stick di slime ma come cavolo si fanno io ho il gel eh e poi cos'altro se forse serve del legno il legno hai legno ma io ce l'ho il legno no non serve il legno sì che serve le ah no sì oh non lo so senti qua ci moriamo però ce le ho le torce quindi lo vedo ma le torce non bastano che moriamo andiamo sott'acqua ci moriamo come si fa? scaviamo 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 di rappa defluisce non defluisce da nessuna parte aspetta eh io io ho c'è un puffo laggiù c'è? un puffo un puffo sì ho visto un puffo gigante non credo che sia un puffo non lo so che cosa è ma sembrava un po' fodigante ok allora ehm io mi farei tutta una una strada intelligente qua vieni aiutami ma perché non mi aiuti a scavare cazzo? perché? no perché non guardi ogni volta mi guardi non ti sto guardando sto ah finalmente tu hai detto che ci vuole un certo criterio sì vabbè ho capito ma mi devi aiutare che diamine sembri tipo gli operai della strada quelli che fanno la strada che uno uno sta lì con la pala e tre o quattro lo guardano continua? sto continuando senti ma non fare il dittatore perché sennò io prendo e me ne vado e scambia solo ciao ciao ma non sono così caro antipatica e se madonna pure una pianta grassa eh eh tu sei odioso mettimi non mi piace nel video ma certo sarà la prima cosa che farò ah bene e specificherò nel commento che non mi piace perché sei odioso no perché io faccio schifo ok eh ah ai 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 aiuto arrivo no 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 così piano c'è qualcosa che mi ha tirato una freccia e ci sto anche morendo mi bevo una pozione no prendi l'ombrello ma guarda e devi berla pure tu perché ci stai morendo anche tu eh è vero io mi sono sono vita eh vabbè ok prendiamo questa roba oh sta andando relativamente bene non siamo nemmeno morti tanto curati ma sto bene ma che stai bene c'hai due di vita è pieno di pipistrelli qua sotto mi mangio un fungo eh ti mangia col destro lo selezioni e clicchi col destro Anna che c'è il fungo il fungo non l'hai mangio oddio senti vieni vieni sotto e illumina va ma io ma stai aiuto aiuto col destro eh col destro col sinistro vabbè mangia con quello che vuoi mangiare madonna c'è libertà no? non è che devi mangiare per forza col destro non è che devi mangiare per forza col destro dipende se sei mangi ecco lo vedi eccolo il puffo lo vedi il puffo il puffo non è un puffo è uno scheletro minatore un puffo un puffo senti ma sto sto cazzo di lead è pieno ovunque ma non so se prenderlo tu prendilo però boh non so se prenderlo tu prendilo stita guarda oh Anna siamo arrivati siamo arrivati nell'inferno guarda siamo scesi parecchio e siamo giù no non è vero c'erano solo degli scheletriminatori facevano luce sembrava la lava mi viene ad aiutare perché ho paura sto prendendo questa roba aiuto sto arrivando ah gli scheletriminati zitta un'idea 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 ho le granate tiro le granate è vero ecco guarda che male che gli hanno fatto vabbè più o meno aspetta provo di nuovo poi quando li ha deboliti scendiamo giù e li uccidiamo eh quello è morto andiamo qua uh bello ah i fi madonna sono fortissimo oh mi sei frizzato il gioco Anna non lo so per un attimo ah che succede cosa abbiamo fatto aiuto che ne so pur a te va il rallentatore no solo a me aia ci sono i pipistrelli mi va il rallenti mi va è strana come co e ti vedo che stai vai a scatti che cavolo sta succedendo è meglio fare una pausa e riprendere a conti fatti proteggimi se puoi rieccoci ritornati di nuovo terraria aveva avuto qualche problema però sembra essere tutto risolto quindi ripartiamo e cistrello sì l'ho visto e non lo so vogliamo continuare da questa parte ci stanno questi due slime ciccioni secondo me se continuiamo oddio aia attenta attenta fanno male fanno male fanno male fanno male fanno male questo piccolo no ma quello grosso fa male oddio guarda quanto è grosso aia vai ciccolana attenta attenta fanno gli slime piccoli mangia qualcosa mangia qualcosa mangia i funghi ok come stai a posto ci sono stanno pipistrelli la pure è un altro slime ciccioso senti scappa 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 aspetta anna ecco la faccia prima aia aiaia mangia 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 credo che qua ce ne siano altri sai illumina oddio uno scheletro che cavolo ha sulla testa quello non lo so però è brutto vai via è brutto sì pochè paura paura che cacchio ha un trafano eh aeeeee I minerali però Anche tu credo ne abbia no? Possiamo fare un sacco di cose Abbiamo 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 Anche le catene possiamo fare No Sì la catena di ferro Ma senti un attimo Hai del ferro tu? Ah controllo Perché io non ne ho Però mi segna come se l'avessi Che strano Io ho l'argento Provo comunque a fare la catena Sai magari Possiamo fare Oh Vuoi una vasca da bagno? Sì Ma non so Vuoi la vasca da bagno? Metta il ferro Aspetta sto guardando un po' Tutti gli oggetti che possiamo fare Noi in teoria dovremmo fare il telaio Però Se facciamo un gabbiato per Kevin Perché mangiare non mi dà fastidio Ti dà fastidio? In che senso? Puzza È brutto Se vuoi fargli un gabbiato Sì fargli un gabbiato Mi sembra una buona idea Eh intanto io faccio Faccio Che faccio? Faccio due picconi No ne posso fare solo uno Piccone d'argento E poi faccio una vasca da bagno Sì La vasca da bagno ci vuole Dove la metto? Qui? Guarda bella Ma non serve a un cavolo? Chissà di no E vabbè dai Chiudiamo qui questo primo episodio Quindi vi auguriamo una buona giornata Se la giornata di oggi dovesse essere finita Mentre guardavate questo video Guardate quello di domani Lion e Spina Out Ciao 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 Ciao